mmm... che facciamo Gris? Cristina? Ah, chi fai? Non lo so, che facciamo? Facciamo un'altra? Ma sì, dai. Ma sempre gratificata. Facciamo una pubblica. Ok, allora invitiamo a Cosaccio. Ci sta Giangola che è forte! Dai, dai. Lui mi invita sempre. Ma Giangola ci prenderà voci, eh? No, no, ma lui è simpatico. Se gli dici che non giochiamo serio... Sempre si gioca. Inattivo. Mmm...